Luca, è arrivato il momento della messa a punto finale con Coach Furlan. Bene Luca, siamo nella fase ancora denominata ciliegina sulla torta. Adesso andiamo a fare un lavoro intermittente. Ti sembrerà molto simile al lavoro di interval training che abbiamo fatto nelle prime volte. In realtà qui cambiano sia i tempi di recupero che le fasi attive. Bene, andiamo a stimolare quelle che sono le capacità lattacide, della tua tolleranza lattacida. 9 su 10 lo sforzo, come percezione. Scala un rapporto e tieni. Appena sottosoglia.